Ciao a tutti ragazzi qui è il vostro Archivi Parlo, sono qui per spiegarvi come ottenere tutte quante le nuove informazioni aggiunte con recente mid-season update per la season 2.5 dove hanno aggiunto praticamente una trentina di informazioni, circa 28-29 una cosa del genere purtroppo due sono buggate ma le vedremo in fondo e sono tutte quante divise per le mappe di epidemia a inizio di ogni sezione metterò la mappa completata con tutte quante le location delle radio e delle informazioni e io ho seguito un ordine un pochino casuale e neanche troppo ottimizzato quindi potete seguire o l'ordine che appunto vedete a schermo o tranquillamente seguire appunto la mappa e raccogliere tutto quanto io comunque mostrerò per bene le location di ogni singola radio partiamo quindi con la mappa alpine, qua ci sono un tot di informazioni da poter raccogliere e anche delle radio dove possiamo raccogliere soltanto un'informazione a partita e purtroppo cambiano regione e non si resetta questo counter quindi più avanti per raccogliere tutte quante queste informazioni dalle radio dovremo fare più di una partita in cui dobbiamo semplicemente spawnare, raccogliere la radio, quittare e cominciarne un'altra per quanto riguarda le altre info invece basta raccogliere soltanto una volta partendo dalla prima informazione Omega si trova qui fuori sul balcone passando poi senza un ordine preciso la prossima informazione, quella Maxis, si trova sopra questo tavolo andiamo poi al centro mappa dentro questo edificio dove c'è un'informazione Requiem cerchiamoci poi alla prossima radio nuovamente Maxis e qui abbiamo un'altra informazione abbiamo poi nella sala da bagno un'altra radio Requiem qui abbiamo un'altra informazione che possiamo raccogliere vi ricordo soltanto una volta per partita proseguiamo al piano superiore del negozio di abbigliamento e qui c'è un'altra informazione proseguiamo verso il fondo mappa e qui sopra questa specie di camion c'è un'altra informazione con Alpine abbiamo finito passiamo quindi a una prossima mappa in questo caso Ruka ancora una volta il mio ordine di raccolta di queste informazioni è un pochino casuale perché dipende da dove spawnate e generalmente che giro volete fare quindi potete seguirlo altrimenti come al solito c'è la foto della mappa quindi andate un pochino come preferite qui alla piattaforma di carico c'è un'altra radio Requiem come sempre soltanto una partita proseguiamo quindi al sito mobile qui sopra un tavolo di legno c'è un'altra informazione questa inizialmente ci ho messo moltissimo a trovarla andiamo quindi a quartier generale base qui c'è un'altra informazione proseguiamo nella zona boschiva e dentro questa specie di casetta c'è un'altra informazione proseguiamo al sito missilistico sopra questa specie di scaffali c'è un'altra info qui vicino abbiamo un'altra radio di omega che possiamo raccogliere come sempre soltanto una partita nuovamente cambia regione non resetta il counter rechiamoci poi alla vecchia fattoria e qui dentro abbiamo al piano terra un'altra informazione qui vicino al torrente abbiamo una info sopra un tavolo e questa devo dire che inizialmente ho fatto molto molto fatica a vederla e anche con Ruka abbiamo finito passiamo quindi a un'altra mappa nel mio caso Golva come sempre spawn casuale ordine casuale non dovete per forza seguire quello che c'è a schermo ma è soltanto una piccola indicazione per vedere dove appunto sono le radio dove sono le info una è qui al granaio sopra la parte superiore dove c'è solitamente il salterino qui ci sono informazioni andiamo poi alla città superiore saliamo le scale e qui sopra in cima c'è un'altra informazione da raccogliere raggiungiamo l'edificio centrale dove molto spesso c'è il pack a punch e al secondo piano un'informazione omega recchiamoci ai dintorni chiesa e qui sopra una specie di scrivania c'è un'informazione andiamo più a sud nelle case rurali e qui c'è sopra un tavolo un'altra informazione non troppo lontano da qui in un'altra casa ci sono qua altre informazioni una radio come sempre una partita andiamo quindi alla fattoria inferiore e anche qui dentro c'è un'informazione anche con golo abbiamo finito quindi abbiamo l'ultima mappa sanatorium qua è stata tutta quanta buia e di notte può essere un pochino difficile vedere alcune informazioni quindi cercherò di essere il più preciso possibile come sempre la mappa penso possa dare una mano andiamo quindi alla loggia e villeggiatura e al secondo piano in questo ufficio abbiamo una radio di requiem qui ci sono informazioni recchiamoci quindi al manicomio quello che sarebbe l'edificio gigantesco centrale a sanatorium abbiamo quindi qua due informazioni una piano terra una al secondo piano quella piano terra si trova qua negli uffici e state attenti perché alcune stanze sono veramente tutte quante identiche quindi è molto molto facile confondersi prendiamo le scale saremo quindi al primo piano anche in questo caso c'è una zona di uffici molto grande e tutta praticamente identica quindi entrate in questa stanza e qui sul tavolino ci sono delle informazioni attenzione ogni tanto tutta quella che è la texture diciamo della cassetta di informazioni non viene caricata quindi potreste inizialmente confondervi e potrebbe non sembrare fin da subito l'informazione da raccogliere andiamo quindi nella zona di amministrazione e al secondo piano in questo ufficio abbiamo una radio di Omega qui ci sono informazioni andiamo ora al molo per poter raccogliere un'informazione questo si trova nella cucina sopra uno scaffale devo ammetterlo all'inizio ho cercato per tipo 5 minuti senza trovarla perché bisogna guardare leggermente in alto e anche guardando in basso non vi dà la scritta di poterle raccogliere andiamo ora nella zona di manutenzione dentro questa ufficina sopra un tavolo abbiamo un'altra informazione infine questo inizialmente mi ero dimenticato di registrarla nella piazza del mercato abbiamo un'altra radio di Maxis da poter raccogliere come sempre una info a partita qui ragazzi queste sono tutte quante le info per quanto riguarda questa update della season 2.5 questo è season 2 reloaded per quanto riguarda le informazioni mancanti che sono due dell'etero scuro purtroppo al momento sono buggate quindi non state lì a fare millemila prove e informazioni perché purtroppo vi dà le info ma non le conta andete a raccogliere sempre le due informazioni che appunto vi mancano ma senza mai farvele contare e raccogliere definitivamente nel menu di informazioni speriamo come sempre che presto treage possa farci una patch e risolvere tutto quanto così potrò vedere per bene tutte queste nuove info possiamo un pochino andare a darci un'occhiata per tutta quanta quella che è la lore, la storia e forse il futuro per zombie come detto prima qui sono tutte quante le info che potete raccogliere in giro le location per quanto riguarda le radio quindi diverse info specialmente maxis dovete fare almeno altre 4 o 5 partite per raccogliere soltanto una quindi spawnate, raccogliete la info in quelle che sono le location, quittate e fate un'altra partita fino ad aver raccolto tutto quanto il tutorial 15 concordo è qui ragazzi, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile fatemi sapere cosa ne pensate dell'aggiunta gigantesca di queste informazioni che io inizialmente per questo update pensavo fossero 5-10 invece alla fine sono una trentina che sono veramente veramente tante, specialmente tantissime di maxis che ha senso dato che abbiamo recuperato Samantha proprio a Firebuzz Z quindi lei potrebbe essere un punto importante e focale per il futuro della storia zombie in descrizione trovate anche il link al posto originale di reddit da cui ho preso le immagini per quanto riguarda tutte le location delle radio e le informazioni singole che come sempre sono veramente un'ottima ottima guida per raccogliere tutto quanto e per magari controllare quelle che vi mancano se avete già raccolto qualcosa in descrizione ci sono anche i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord che vi invito a seguire e ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio, ala un abbraccio, ala